Ecco perché dovreste vedere Trap, il nuovo film di M. Night Shyamalan. Un padre di famiglia accompagna sua figlia ad un concerto di una nota pop star, Lady Raven. Giunto al concerto però si rende conto che l'evento non è altro che una trappola tesa dalla polizia per arrestare un serial killer, noto come Il Macellaio. Qual è il problema? Che il macellaio è lui. M. Night Shyamalan è un regista con cui devo fare costantemente pace ogni due tre film, nel senso che a volte mi soddisfa molto, altre volte mi delude enormemente. Stavolta è andata bene, nel senso che Trap mi è piaciuto anche tanto. È un film atipico per il regista, famoso per i grandi finali a sorpresa. Questa volta la sorpresa è diversa, lo spettatore scopre subito l'identità del killer e il gioco, la tensione creata dal come farà il protagonista a evitare la trappola della polizia. Il film è diviso in due parti, ben distinte. La prima è sicuramente la più interessante, complice la bella cornice del concerto. Dei momenti di tensione niente male è l'interpretazione di Josh Arnett, che incarna un freddo calcolatore super carismatico, infatti, lo ammetto, ottifato per il macellaio tutto il tempo. Certo, bisogna scendere a patti con delle evidenti forzature presenti in tutto il film, ma che nella seconda parte proprio sraripano. Trap, come molti film di Shyamalan, richiede una certa sospensione dell'incredulità. Ma se si riesce a superare questo ostacolo, ciò che resta è un bel giochino. Un thriller girato anche molto bene, che regala dei momenti di genuino divertimento e quindi per me è promosso. Ma voglio sapere la vostra. Avete visto Trap e se sì, cosa ne pensate? Sbizzarritevi nei commenti.